Sono una sognatrice, lo sono sempre stata, ho sempre guardato le stelle immaginando mondi lontani, mondi impossibili, improbabili, ma ora so che avevo ragione, tutto è possibile, ricorderò per sempre questo giorno, il giorno in cui tutto ebbe inizio. Victor, non ne so molto, lo tengono segregato da anni, lo stanno costringendo a lavorare per loro. Quattro anni fa scoprì il relitto di un'astronave aliena sotto il Duomo di Milano. Non sono fantasie, gli antichi dèi, Atlantide, la tavola dei destini. Non sono fantasie. Grazie. Grazie per la visione Grazie per la visione